buongiorno a tutte stamattina sono ancora le 10 tra un poco uscirò e allora ho deciso di fare un trucco in cinque minuti e questo è un video risposta si vede che sono ancora poco sveglia comunque ho qui il mio timer 5 minuti da che premo inizierò ovviamente non si parla si cerca di fare quel che si può sono miope quindi ho uno specchio qui davanti al mio computer speriamo di vederci bene ci vediamo tra cinque minuti vediamo cosa abbiamo combinato ciao attacco il timer via Grazie a tutti. 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 Ok, questo era il mio video di risposta. Ciao.